Allora iniziamo quindi al migliore dei modi e ci prepariamo insomma a questi studi a tavola degustando il pesto genovese e c'è un motivo ben particolare Maria. Sì perché come si diceva prima la Liguria è la porta per l'alimentazione e la dieta mediterranea perché ha i prodotti simili alla nostra terra che si trova a sud dell'Italia con l'olio di oliva e con altri prodotti. Il pesto come già il professore Strazullo come l'asino riconoscono come piatto importante della dieta mediterranea e quindi questa sera è un piacere immenso proprio avervi qua veramente un onore questo gemellaggio che stasera andremo a fare appunto con Genova, con la Camera di Commercio e con l'oro che portano il pesto in tutto il mondo. Siamo qui proprio per significare poi il legame che a Genova con il resto del Mediterraneo il legame che ha forte, che ha il pesto con il resto della cucina, dell'alimentazione, della dieta mediterranea il fatto che il pesto non è un prodotto necessariamente locale il pesto nasce a Genova ma si fa con un pecorino che viene fatto in Sardegna con un parmigiano che viene fatto in Emilia-Romagna con i pinoli che arrivano dal centro e dal sud Italia quindi il sale, usiamo un sale che arriva dalle saline di Trapani quindi è un qualcosa che Genova proprio per la sua natura anche commerciale ha sempre aggregato e ripropone come propria salsa una cosa che è fatta con ingredienti che arrivano da tutto il Mediterraneo quindi sembra proprio veramente esemplare di questa unione di prodotti che poi portano appunto alla dieta mediterranea. Possiamo dare un'occhiata agli ingredienti che lei tra poco utilizzerà Sì, abbiamo l'olio extravergine di oliva ligure, di oliva taggiasco, un olio dolce, delicato e qui non parliamo di campanilismo, certamente usiamo i prodotti del territorio, della tradizione ma sicuramente è un olio che per le sue caratteristiche è perfetto per il pesto perché essendo piuttosto delicato non sovrasta poi gli altri ingredienti e quindi abbiamo olio appunto buonissimi qui in Campania ma in tutta Italia che però a volte hanno una caratterizzazione maggiore e quindi tendono ad essere un pochino più aggressivi. Poi abbiamo il parmigiano leggero, abbiamo il pecorino fiore sardo che è il vecchio, l'antico pecorino a latte crudo che viene ancora oggi prodotto in Sardegna dai pastori con la scorza leggermente affumicata che poi caratterizza anche un pochino tutta la salsa il sale delle saline di Trapani, i pinoli, che sono i pinoli nazionali l'aglio di Vessalico Vessalico è un paesino dell'entroterra di Imperia al confine con la Francia dal 1400 si tiene una fiera dell'aglio, era l'aglio più famoso d'Europa venivano da tutto il mondo conosciuto a comprare l'aglio lì è particolarmente deciso nel sapore ma estremamente digeribile per le caratteristiche del suolo e anche poi della caratteristica della varietà e poi abbiamo il principe di tutto che è il basilico che con questa foglia piccola, con una caratteristica che ha sia per il tipo di coltivazione anche per la varietà che viene utilizzata è estremamente aromatico, dolce non ha retrogusti, a volte abbiamo del basilico che sa di menta a volte abbiamo del basilico che sa di limone, che sa di lavanda sono 380 varietà di basilico e soltanto 60 sono utilizzabili in cucina per l'alimentazione e soltanto uno, diciamo, non è quello giusto per fare il pesto Allora Maria, questo gemellaggio lo possiamo fare? Possiamo fare questo matrimonio? Dieta mediterranea, pesto genovese? Ah, questo sicuramente, non c'è alcun dubbio è un piatto della dieta mediterranea Grazie Grazie Grazie